Hai messo i boschi, ma appena si assenta Aragon arrivano i Nazgûl Oh mio Dio! E' un grande di Nazgûl! 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 Rodo cerca di scappare mettendosi l'Anello e andando nell'altro mondo ma lui lo trova perché è il mondo perduto e lo infilza sta per morire ma li va Aragon col fuoco caccia via i Nazgul il caccia via i Nazgul si tappano terrorizzati gli Ombi sono disperati Prodo sta per morire aragona prenda il telefono ti andrò in curatore e incontra aruensi aruensi Chiara è la principessa degli etni ferma Chiara Allora di libera d'Aragon non lo puoi portare ma lo devo portare da mio padre ma solo lei può salvarlo prendilo Aragon carica Prodo sul cavallo di Aragon dai potremmo intericare sul cavallo ok scappa Aruel ma i Nazgul li vedono e solo li vedono scappa Aruel arriva al torrente 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 il torrente è puro d'acqua brillante in Asgul però fermi vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua e dall'altra parte del torrente vieni qua fermi pensi di essere salva sei salva ma il re dei Nazgul spinge i suoi verso il torrente dai 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 chiamo la nace, che rifiuto, no, e c'è già stata la corsa, no, 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 che rifiuto, Cristiana ed Ania, Arwen, chiama la magia dell'acqua, io non so di l'acqua, e li di trasformati in enormi cavalloni, che sdravolzetti i nostri, a fare nemmeno, e li von Ania, e lo andiamo, e poi dalla casa, noi sono Prodo, per guarirlo. Bravo ! Bravo ! Chi Mik질, abbiamo avuto, allora, Alwen, Prodo,elle si chiamo Prodo,gehen Eldale! Grazie a tutti.